Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario è dedicata alla vicenda legata ai lavoratori dell'ex reddito minimo di inserimento, l'assessore ai servizi sociali del comune di Gela, Licia Abela e il consigliere comunale Salvatore Scerra hanno ricevuto rassicurazioni dalla regione siciliana. Adesso si attende soltanto l'ufficialità della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, che domani formalizzerà l'aumento della soglia di reddito per reintegrare i 34 gelesi finora sospesi. Vediamo. Rassicurazioni dalla regione siciliana in merito ai lavoratori dell'ex reddito minimo di inserimento. Si attende solo l'ufficialità della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale regione Sicilia, che domani formalizzerà l'aumento della soglia di reddito per reintegrare i 34 gelesi finora sospesi. Oggi l'assessore ai servizi sociali del comune, Licia Abela, ed il consigliere comunale Salvatore Scerra hanno illustrato gli ultimi risvolti. Non si terrà più conto del patrimonio immobiliare e reddituale, ma soltanto del patrimonio totale e che la soglia verrà innalzata. Infatti si passerà fino a 20.000 euro per il singolo e 40.000 euro per un reddito familiare. Innanzitutto è necessario che la documentazione presentata risulti essere congrua e priva di omissioni, perché purtroppo in molti casi è stato riscontrato questo genere di deficit. Quindi è necessario che tutti, innanzitutto gli operatori, quindi gli ex RMI, portino queste certificazioni che siano chiare e precise. E dopodiché si procederà anche con il reintegro nella forza lavoro, oltre che al recupero delle ore perse. Il consigliere comunale di Forza Italia Scerra ha proposto all'amministrazione di far istituire i mandati di pagamento delle unità fino alla sospese, in modo che vengano liquidati subito dopo la pubblicazione della nuova norma. La legge che verrà pubblicata in finanziaria, speriamo prima possibile, parla proprio di questo innalzamento che c'eravamo augurati per questi lavoratori. Dovrebbe essere una grande vittoria per la città e non personale di Salvatore Scerra o del deputato Arancio Vedevico, ma una vittoria collettiva di tutti. Gli uffici dovranno valutare meglio, dovranno attenersi alla legge nuova, quindi alla legge nuova, alla 16.9 della finanziaria e credo che non ci dovrebbero essere incongruenze, al 99%. L'invito che ho fatto all'assessore Abele e al sindaco, anche se oggi non era presente in conferenza stampa, ho detto che di preparare anche in base alla nuova legge i mandati per i 34 che sono rimasti fuori, almeno di prepararli e aspettare la pubblicazione della legge in modo tale che velocizziamo i pagamenti. E quindi per questo dico, la Pasqua deve essere sia per noi che per loro. Sono i carabinieri del reparto territoriale di Gela che indagano sull'attentato incendiario commesso ieri sera intorno alle 23.15 ai danni di Giuseppe Pane Bianco, 44 anni, avvocato e attuale commissario liquidatore dell'Ato Ambiente CL2. I gnoti hanno dato alle fiamme la sua Mazda MX6, un'auto acquistata da pochi mesi. La vettura era parcheggiata nei pressi della sua abitazione, in via Manzoni 51, all'interno di un cortile che fra l'altro è anche recintato. A domare le fiamme sono stati vigili del fuoco del locale di staccamento. Si è costituito direttamente presso la caserma della Guardia di Finanza il gelese Orazio Pellegrino, 52 anni, una delle 27 persone coinvolte nel blitz a Gorab di martedì scorso. Dopo le formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Gela, assieme a Simone di Simone, ritenuto dagli investigatori uno dei capi dell'organizzazione, il principale esperto e conoscitore di reperti archeologici. Comandante, quali sono i risultati delle attività svolte durante il 2015 in tema di contrasto all'illegalità economico-finanziaria? Noi abbiamo svolto una intensa azione in vari settori, da quello fiscale a quello della spesa pubblica, a quello del contrasto del contrabbando e chiaramente della criminalità organizzata. A livello di verifiche fiscali sono stati eseguiti più di 400 controlli, sono state denunziate diverse decine di persone e di cui tre anche tratte agli arresti domiciliari. Per quanto riguarda il contrasto alla spesa pubblica e alle frodi comunitarie, sono stati individuati frodi per circa 5 milioni di Euro e per quanto riguarda la comunità organizzata, sono state avanzate proposte sia di sequestro che eseguite delle confische patrimoniali per diversi milioni di Euro. Abbiamo fatto anche diversi servizi a tutela dei diritti audiovisivi e quindi sequestrati numerosi CD e DVD contraffatti o riprodotti legalmente e sono state anche fatte delle attività in materia di contrabbando con il sequestro di diverse partite di gas che non aveva pagato le dovute dazi doganali e le dovute imposte sul valore aggiunto. I cittadini sono tutelati attraverso un'intensa attività di controllo economico e finanziario a primo luogo ma anche attraverso delle attività a contrasto della criminalità organizzata. Con i cittadini noi intendiamo avere un rapporto osmotico per cui invitiamo chiunque a denunciare ogni fatto di legalità soprattutto che riguarda le materie di particolare competenza da guardia di finanza, quelle sono quelle economiche e finanziarie sia attraverso delle denunce presso le nostre caserme sia utilizzando il numero 117. Finalmente si è giunti alla calendarizzazione della legge regionale sui liberi consorzi e le città metropolitane. La legge è impugnata dallo Stato centrale perché alcuni punti della stessa sono ritenuti difformi rispetto alla legge nazionale del Rio. In risposta il governo regionale è corso ai ripari apportando le modifiche richieste e adeguando in questo modo la del Rio. Fra le variazioni più sostanziali la nuova stesura prevede la rimodulazione delle competenze escludendo nello specifico quelle in materia di acqua e rifiuti di prerogativa nazionale nonché l'introduzione del voto ponderare la coincidenza nelle città metropolitane della figura del sindaco con quella dell'attuale sindaco della città più grossa. A causa di quest'ultima modifica, dice Liliana Bellardita, di Gelensis Populus si frustra l'aspetto più democratico che la legge siciliana aveva e cioè la sottoposizione alla votazione, seppure di secondo livello, dei sindaci delle tre città metropolitane che avranno una investitura ex legge. La legge entrerà in aula nel pomeriggio di martedì 22 marzo 2016. Ci aspettavamo la medesima tempestività per il DDL di Giunta che riscrive i confini territoriali che sancirà il definitivo passaggio delle città di Gela, Niscemi e Piazza Armerina alla città metropolitana di Catania. Ci era stato assicurato che i tempi sarebbero stati rispettati e così avevamo informato le comunità di Gela, Niscemi e Piazza Armerina. Intanto noi ci aspettiamo che i parlamentari recepiscano la legge con le modifiche apportate e questo per due importanti ragioni. Da un lato far decadere l'impugnativa statale e dall'altro consentire l'incasso da parte della Regione delle risorse statali destinate alle ormai ex province per consentire quantomeno la ripresa dei servizi che sono stati bloccati e la copertura degli stipendi dei dipendenti. Adesso parliamo dell'iniziativa sui 70 anni della Repubblica Italiana un appuntamento nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. Vediamo. Docenti, alunni e rappresentanti delle istituzioni si sono dati appuntamento oggi nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela al fine di celebrare i 70 anni della Repubblica. L'obiettivo della scuola, diretta da Grazio Di Bartolo, è quello di rendere partecipi gli studenti in un momento così importante. E' quella che si è svolta oggi, ha rappresentato un'altra tappa del progetto. I professori hanno realizzato questo progetto con lo scopo di far capire ai ragazzi che tra istituzioni e cittadini ci deve essere un rapporto di reciproco rispetto. Ma soprattutto ricordare che le regole sono fondamentali per la convivenza civile. E questo va tutto, diciamo, a favore dei futuri cittadini. Sono delle nozioni importanti che i professori hanno trasmesso facendo conoscere come è organizzata la Repubblica e quindi le regioni, i provinci, i comuni e i rapporti tra gli enti e i cittadini. Tra i presenti oggi, come dicevamo, numerosi rappresentanti delle istituzioni. Tutte le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche rappresentano una cornice istituzionale ideale proprio per rilanunciare i valori fondanti dell'Unità d'Italia che si sono ripresentati, peraltro, in occasione della scelta referendaria compiuta dal popolo italiano ormai 70 anni fa con il voto del 2 giugno del 1946 con il quale appunto si è scelto di ricomporre l'unità della nazione con la scelta della Repubblica Democratica e per la prima volta con il voto delle donne l'elezione dell'Assemblea Costituente e quindi l'approvazione della Carta Costituzionale, della nostra Carta dei Valori. Noi ancora adesso combattiamo una difficile guerra e abbiamo vinto però tante battaglie per consentire a tutti di poter esercitare i loro diritti per affermare la libertà e i principi di democrazia per tutti i giovani e per garantire loro un futuro migliore in una società veramente civile. Ritorno sempre io alla mia attività principale che è l'anti-racket e che come voi ben ricorderete è che la mafia non voleva mai un ragazzo istruito perché per loro era un possibile mela marcia. È possibile presentare entro e non oltre il 30 aprile la domanda per ottenere il buono sociosanitario per l'anno 2016. Le domande devono essere presentate al protocollo generale del Comune di Gela o inviate per mezzo posta raccomandata corredata dalla ricevuta di ritorno. Il buono sociosanitario è destinato alle famiglie che mantengono o accolgono anziani di età non inferiore a 69 anni e un giorno in condizioni di non autosufficienza titolari di invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento debitamente certificata o disabili gravi purché conviventi e legati da vincoli familiari e quali garantiscono direttamente o con impegno di altre persone non appartenenti al nucleo familiare prestazioni di assistenza e di aiuto personale anche di rilievo sanitario. La condizione economica valutata con certificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve essere superiore a 7.000 euro. Per scaricare l'avviso e il modello dell'istanza è possibile consultare il sito del Comune www.comune.gela.cl.it oppure ci si può rivolgere all'ufficio di segretariato sociale di Viale Mediterraneo 27 al Piano Terra. C'è anche un numero di telefono 0933 90 67 96 aperto al pubblico da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 Gli alberi che insistevano nel piazzo Umberto I a Gera non ci sono più. Sono stati rimossi dopo tantissimi anni e sono stati ricollocati in altre aree della città compresa quella di Montelungo. Adesso, così come dimostrano le immagini si stanno eseguendo i lavori di pavimentazione ma obiettivo dell'archiocleb preseduta in città da Nuccio Mulè è quello di togliere la statua della Dea Cerere e di collocare il busto di Umberto I che attualmente si trova nella villa comunale Garibaldi. Ripristinare il tutto come era prima il discorso è molto semplice anche perché come archiocleb noi abbiamo recepito numerosissime istanze da 20 anni a questa parte e anche di più pertanto non abbiamo fatto altro che assolvere era il compito che può assolvere un'associazione di volontariato capire come la pensano i cittadini e portare avanti un discorso che è il discorso dei cittadini e siccome si trattava soprattutto in questi ultimi tempi si è recepito finalmente il problema igienico-sanitario a parte il decoro pubblico bene, allora l'archiocleb ha portato avanti tutta una serie di istanze che sono state recepite dall'amministrazione comunale Grillina è specifico Grillina perché perché per un paese normale andare a togliere questi alberi poteva essere una cosa semplicissima e normalissima per Gela diventa una cosa epocale quindi e ora perché la sostituzione della D.A. Cerere? allora innanzitutto è errato chiamarla Cerere per il semplice fatto che quella statua è stata donata a Salvatore anzi è stata commissionata per fare un dono a Salvatore Aldiso Salvatore Aldiso ha pensato bene allora di donarla alla città però di Cerere non ha niente perché la Cerere o la Demetra greca non sono con questa iconografia sono delle matrone hanno una spiga in mano un canestro di prodotti della terra quindi come direbbe un politico che ci azzecca questa statua nuda con Cerere e poi ovviamente bisognava giustificare questa statua e si introdusse il nome di Demetra o Cerere che sia e ora a chi spetta l'ultima parola quel monumento a Umberto I è stato il primo in Italia ad essere realizzato con il contributo dei cittadini, dei terranovesi allora quindi abbiamo noi una primizia di aver fatto un busto nei confronti del regime sabbaudo però il problema non è sabbaudo oggi diremmo istituzione della Repubblica il problema è la dedizione dei terranovesi per allora l'istituzione sabbauda se fosse stata adesso sarebbe stata l'istituzione repubblicana quindi è un monumento che deve ritornare oggi alle 17.30 liceo classico Eschilo organizzato dall'Unitere presieduta da Angela Scaglione si terrà la presentazione del libro di Salvatore Buscemi c'erano una volta i giochi prevista tra gli altri la presenza dell'assessore comunale all'istruzione Licia Abela ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale le associazioni altri le Sautres e As Sawari e il circolarci le nuvole di Gela sotto il patrocino del comune di Gela domani alle 20 presso la chiesetta di San Biagio presenteranno e uscì la croce Sicilia spiritualità e tradizione di Anna Patrizia Caminati si chiama Versi di Luce la cremesse di cori di fiction video arte e video poesia che si terrà a Gela nei locali della chiesetta San Biagio da sabato 19 a lunedì 21 marzo prossimi la serata conclusiva coinciderà con la giornata mondiale della poesia istituita dall'UNESCO prima della tappa giolese un incontro si terrà a Modica l'iniziativa è promossa dalle associazioni Renovazio e Stella Maris e patrocinata dal comune di Gela Versi di Luce è un festival che è nato otto anni fa e c'è questa collaborazione con la città di Gela da due anni la cosa interessante appunto da mettere in rilievo è questo filo che unisce Modica e Gela che riguarda in maniera particolare le location quesimodiane infatti come sapete Salvatore Quesimodo è nato a Modica e ha avuto un piccolo passaggio nella città di Gela e proprio il festival è dedicato a Salvatore Quesimodo riteniamo la cultura e il cinema una risorsa fondamentale per i cittadini e per il popolo che ha bisogno di nutrirsi anche di questi eventi emozionali anche perché fare cinema e fare poesia significa anche comunicare emozioni l'uomo ha bisogno di tutto quanto ha bisogno delle cose serie e delle cose meno serie ha bisogno di cultura ha bisogno di passione ha bisogno soprattutto di emozioni con questo evento che è in concomitanza anche il giorno 21 con la giornata nazionale della poesia Renovazio vuole celebrare appunto insieme a Stella Maris insieme alle altre associazioni vuole celebrare questa giornata che non deve essere dimenticata ma anzi deve essere una giornata di sprono per tutti quanti che ci possa aiutare a vivere di queste emozioni il festival sarà articolato in tre giorni avrà un inizio a Modica come primo giorno e gli altri due saranno qui ospitati a Gela noi come Renovazio sposiamo con entusiasmo per il secondo anno consecutivo questo evento culturale di altissimo profilo qualitativo ospiterà la proiezione di numerosi cortometraggi tutti d'autore che potranno essere votati dal pubblico che quindi avrà sicuramente il diritto di dare un proprio contributo una propria partecipazione e questo come dire si staura nella logica di una crescita culturale proprio della della popolazione ed è uno dei propositi che è nello statuto della nostra associazione quindi quello di promuovere la crescita culturale in questo caso in campo cinematografico della nostra comunità adesso la nostra consueta rubrica in breve vediamo la casa del volontariato social cohesion factory un'ex scuola abbandonata è diventata spazio urbano rigenerato dedicato all'educazione e alla convivenza democratica lunedì 21 marzo alle 16.30 nella sala conferenza recentemente ristrutturata grazie all'opera gratuita di alcuni imprenditori i rappresentanti della società civile consegneranno a 250 studenti delle scuole superiori il passaporto del volontariato gli studenti saranno impegnati in 21 progetti sociali all'interno di tutti i quartieri di Gela si occuperanno di manutenzione del verde distribuzione di alimenti e indumenti assistenza ai disabili e agli anziani 21 progetti di educazione alla convivenza democratica per formare cittadini non solo attivi ma anche solidali nel passaporto del volontariato saranno certificate le attività svolte e le abilità acquisite arriva a Gela vivere alla grande il documentario sul gioco d'azzardo che racconta quella che è una vera e propria invasione nella vita della popolazione italiana grazie alla disponibilità del cineteatro antidoto di Macchitella domenica 20 marzo sarà possibile assistere ad una doppia proiezione gli orari sono fissati per le 17.30 e le 20.30 il costo del biglietto per l'occasione sarà di 5 euro sarà presente anche il regista del film il pugliese Fabio Leli parla della Sicilia dal punto di vista femminile il film documentario cose di donne che sarà proiettato al cineteatro antidoto il 18 marzo prossimo alle 21 con ingresso gratuito sei storie di donne che hanno in comune l'essere nate in una terra femmina per eccellenza con i suoi miti le sue leggende che si sono avvicendate e sovrapposte nel tempo il docufilm di Lorenzo Daniele che ha vinto il premio Archeoblogger alla 26esima rassegna internazionale del cinema archeologico di Rovereto tra le donne protagoniste c'è l'archeologa gelese Angela Catania presidente dell'Archeoclub Giovani sabato 19 marzo alle 21 al teatro Eschilo la compagnia Liotru porterà in scena le sorprese del divorzio la rassegna è promossa dall'associazione culturale Demetra preseduta da Maria Giannone il costo del biglietto è di 10 euro per le associazioni no profit che volessero partecipare con i loro associati è possibile accreditarsi e ottenere un biglietto di 5 euro la stessa riduzione sarà applicata a bambini e universitari per informazioni 333 4183 893 oppure presso il botteghino del teatro tutti a Licata è l'appello lanciato dai tifosi del Gela in merito alla gara di domenica prossima quart'ultimo turno del campionato di eccellenza che vedrà Biancazzurri del tecnico Totò Bruculeri sfidare la profavara sul campo neutro Dino Liotta per la squalifica del terreno di gioco dei Favaresi la partita avrà inizio alle 15 è già scattata la prevendita il costo del biglietto e la quota Pullman è di 15 euro per informazioni e adesioni ci si può rivolgere presso pausa internet di Via Venezia al numero 320 la partenza dei Pullman è prevista per le ore 13 di domenica dallo stesso posto c'è l'informazione cinematografica e fuoco a mare il film in programmazione al cineteatron titolo di Macchitella a Gela sono tre gli orari di rotazione della pellicola ve li ricordiamo 17 e 30 19 e 30 21 e 30 sabato 19 marzo alle 21 sempre all'antidotto è prevista la rappresentazione teatrale servizio in camera è tutta una farsa commedia brillante in due atti di Emanuele Giammusso per informazioni 0933 82 2707 oppure 338 71 43 293 i biglietti sono in vendita presso il botteghino tutti i giorni dalle 17 alle 20 e 30 è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci a domani grazie a tutti